Flavia, anche in letteratura vale il detto le regole sono fatte per essere in Francia. Se avete una domanda mandate un vocale 351 877 9461. Flavia, anche in letteratura vale il detto le regole sono fatte per essere trasgredite. Tutte le famiglie felici si somigliano. Ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo. Riconoscete quest'incipit? È forse l'incipit più famoso della storia della letteratura. Parliamo di Anna Carienina, di Tostoi. Questa è una traduzione. Bisognerebbe leggere il testo nelle lingue originale. Analizzando la frase, però, una cosa salta subito agli occhi. C'è una ripetizione. Ogni famiglia è infelice e invece è infelice a modo suo. Ma com'è possibile? Quante volte da bambini a scuola c'è stato detto che le ripetizioni sono un errore? Che dobbiamo evitarle, come la peste? E allora come mai Tolstoi non ci ha fatto caso? Che si sia distratto? No. Quell'errore è diventato altro. E quando è che un errore diventa altro? Ci passiamo sopra. Diventa cioè una vera e paropea questione e lezioni di stile. La parola chiave è consapevolezza. Quando l'autore c'è così consapevole di quell'errore che lo porta alle estreme conseguenze e ne fa una scelta precisa. La scrittura in fondo vive di questo, no? Di contrasti, di estremi. Nessuno considererebbe un ossimo o un errore. Eppure che succede praticamente? Ovviamente, quando dico i beati anni del castigo, cosa accade? Che prima dico una cosa, i beati anni, e subito dopo, nella stessa locuzione, affermo l'opposto, del castigo. Quasi mi contraddico. Ecco, se ripeto così a lungo una ripetizione, quella ripetizione può diventare altro. Così come io senza H, oppure una pagina intera senza nemmeno un segno di punteggiatura. Ma bisogna esserne consapevoli. Esercitare un tale controllo da trasformare un errore in una possibilità e un'occasione. Che poi un errore cos'è? Per citare le tre cani è l'atto o l'effetto di allontanarsi con il pensiero o con l'azione dal bene e dal vero. E allora potremmo dire che l'unica regola che in letteratura non si può mai trasgredire, l'unico errore da non fare mai, è proprio questo. Smettere di dire tutta la verità sui tuoi stessi e sul mondo. Per quanto dura sia, e per quanto male, faccia. Farmacia letteraria, un podcast della Scuola di scrittura Genius. In due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro. Oppure mentre lo scrivete. Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.